Scusi, compro la maglia dell'Inter alla prima persona che mi tocca Dai adesso, oh sei troppo vivo E come ti chiami? Matteo Come me? Ah, vatti cinque Hai vinto la maglia dell'Inter Ah, grazie Quale vuoi? Adesso devo provare questa Andiamo sopra a vedere cosa c'è un attimo Ah, va bene, grazie Sei interista? Sì, tutto Perché? Perché da quando sono piccolino che mi piace Quale maglia ci farebbe piacere? Eh, quella di Varela Vai, prendila un attimo Dopo due minuti ha scelto la maglia Però prima di pagare devo fargli una domanda molto molto importante Sei abbonata? Metteo rivelini su Instagram? Sì Fammi vedere Perfetto Grazie mille L'unica cosa è che c'è qualcosa che non gli ho detto prima di andare in cassa Vediamo come reagisce Ok, sei contento? Sì, di brutto Prima di pagare? Eh Devi girare la carta Esce d'aprile Sì Però se vuoi possiamo andare a comprare una maglia del Milan No, no, no Te la compro di sicuro? No, no, no Milan no Perché? Milanista e Winter Store no E allora mi devi buttare fuori? No, no Però dico Milan proprio no